Cari amici, facciamo come ogni settimana il punto sulla situazione del Covid nella nostra regione. Come è del tutto evidente, siamo arrivati ormai alla terza ondata del contagio in tutta Italia. Per quello che riguarda la Campania, noi ormai da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi positivi al giorno. 2.500 positivi significa che dovremmo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25.000 persone. È evidente che in queste condizioni diventa impossibile, anche perché nel frattempo abbiamo il personale che è impegnato all'ultimo respiro per la campagna di vaccinazione. Dunque siamo arrivati dove era prevedibile che arrivasse l'Italia e arrivasse la Campania. Perché siamo in questa situazione? Perché la capacità di contagio che hanno le varianti, in modo particolare quella inglese, è estremamente aggressiva. È con una caratteristica che il contagio con le varianti tocca la popolazione più giovane, più ancora che la popolazione anziana. Questa è la caratteristica specifica che ha il contagio indotto dalle varianti. Avete avuto modo di ascoltare che nei giorni scorsi a Modena è stata ricoverata in terapia intensiva una bambina di 11 anni. Terapia intensiva e intubata. Per dire che davvero siamo di fronte ad una variante di estrema pericolosità e abbiamo registrato anche nei nostri territori un livello di contagio enorme nel mondo della scuola. La prima ragione di questa esplosione di contagio dunque è questa. Vi è ormai una diffusione generalizzata di varianti Covid in tutta Italia. E come era ampiamente prevedibile, la Campania è fra le regioni più esposte. Perché, come ho ripetuto tante volte, siamo la regione a più alta densità abitativa. E' quindi più esposta alla diffusione e moltiplicazione del contagio. La seconda ragione di questa esplosione è data dai comportamenti scorretti che abbiamo registrato in queste settimane. Non solo perché si è determinato un clima di rilassamento generale. In alcuni fine settimana avevamo addirittura le spiagge gremite, sembrava di essere a Ferragosto. Ma perché in tanti quartieri, in tanti territori, a fianco ad atteggiamenti di assoluta scorrettezza, abbiamo registrato l'assoluta mancanza di controllo. Questo è un problema che riguarda tutta Italia, per la verità. Sono l'unico che ha insistito per mesi, ricordando che un contagio così generalizzato e così pericoloso è difficile contrastarlo senza avere un impegno straordinario di decine di migliaia di donne e uomini delle forze dell'ordine. Abbiamo avuto quartieri completamente abbandonati a se stessi. Alle 18 di sera non c'è più nessun controllo sostanziale, ma neanche il controllo sull'uso delle mascherine è stato possibile ottenerlo. Da settimane l'Italia è abbandonata a se stessa e in modo particolare alcuni comuni della Campania, dell'area visuviana e non solo. Abbiamo avuto sindaci e amministratori locali che hanno fatto il proprio dovere, hanno avuto coraggio, sono intervenuti. Abbiamo avuto sindaci di grandi città che non hanno fatto niente. Niente. Anzi, fino a qualche giorno fa incentivavano anche le aperture serali senza esercitare nessuna forma di controllo. Anzi, fino a qualche giorno fa.